Ha evaso dagli arresti domiciliari dove era stato ristretto a ottobre per il furto di un'auto, ha rubato un'altra vettura, ha provocato un incidente, ha tentato di sottrarsi all'arresto, nella fuga ha danneggiato una gazzella dei carabinieri e quanto ha causato a martedì un 34 anni di nuoro che è stato arrestato dai militari della locale compagnia che gli hanno contestato una lunga lista di reati, evasione, ricettazione, danneggiamento, guida senza patente, rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando i militari martedì sono recati a casa dell'uomo per accertarsi che rispettasse gli obblighi del provvedimento di arresto, ma non lo hanno trovato. Sono iniziate così le ricerche dell'evaso quando alla stazione dei carabinieri è arrivata la denuncia del furto di una Fiat Punto. Contemporaneamente alla centrale operativa è arrivata anche la segnalazione di un carabiniere fuori servizio che raccontava di un individuo che alla guida di un'auto dello stesso tipo di quella rubata aveva danneggiato un'auto parcheggiata in Viale Repubblica, ma stava tentando di allontanarsi senza preoccuparsi di quanto provocato. Il soggetto nel frattempo era stato bloccato da una patuglia di carabinieri giunta sul posto che aveva riconosciuto l'evaso. L'uomo a quel punto ha tentato di scappare a bordo dell'auto danneggiando la gazzella dei carabinieri, ma la sua fuga è stata bloccata. Pertanto è stato arrestato e rinchiuso nel carcere nurese di Badecarros. Grazie. Grazie.